Con il risultato ci dà la responsabilità di portare tutte quelle domande che il territorio ha posto e noi abbiamo cercato di rispondere e di portare nei territori e nei luoghi istituzionali dove si forma, dove si legifera e soprattutto dove ci sono i soldi per il territorio. Siamo agguerriti, giusto per dirlo, non saremo là a fare un atto di presenza, siamo piccoli, va bene, ma ci faremo sentire certamente con delle proposte e sulla ci confronteremo, soprattutto sui contenuti. Napolicentrismo e salernocentrismo non saranno parole che verranno blocate dal nostro vocabolario. O facciamo, come diceva Clemente Mastella, una triangolazione delle nostre esigenze, quindi Napoli, Salerno e territori interni, oppure creeremo fin dall'inizio un grosso problema. Sorpreso di questo risultato, positivamente, chiaramente, si aspettava queste dimensioni come risultato? Senti, noi abbiamo attraversato il territorio lungo e largo, abbiamo fatto piccoli e grandi riunioni, siamo stati sui massimili, abbiamo cercato di narrare un futuro immediato oppure immediatamente, diciamo, nei prossimi giorni, dove tutti si potessero vedere le ampie possibilità che il territorio può raccontare e fare. È una responsabilità grossa, 10.000 voti sono importanti, sono certamente, però ci danno una grossa responsabilità nel portare avanti queste situazioni a livello della regione campagna. Ripeto, una regione campagna molto spesso silente, silente rispetto al grido d'aiuto e di precarietà che il territorio, la provincia di Benevento, esprimeva. Ripeto, una regione campagna molto spesso, la provincia di Benevento, è una regione campagna molto spesso,